Mazzara, proponiamo in vendita villa di circa 140 metri quadrati, disposta su due livelli. Internamente è composta da. Cucina abitabile. Ampio soggiorno. Ripostiglio. Servizio completo con box doccia. Camera. Seconda camera da letto. Camera singola. Ampia dependanza di circa 70 metri quadrati, con bagno. Ed infine al primo piano troviamo un ulteriore vano con annessa terrazza pertinenziale. La villa dispone di ampi spazi esterni, per garantire il massimo comfort. Inoltre dispone anche di un garage di circa 30 metri quadrati. No. 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 Grazie a tutti.